Per la web tv di Menzilatreda Questa sera siamo a Capaccio Scalo per parlare non solo di cricket ma della festa evento organizzata insieme alla comunità degli amici del cricket Ne parliamo con l'assessore allo sport del comune di Capaccio Franco Sica e con Arman Sindar che è il capitano della squadra di cricket Capaccio Pestum Buonasera assessore bentornato sulla web tv di Menzilatreda Parliamo di questa serata che unisce e crea aggregazione insieme agli amici del cricket Certo certo insomma è un altro momento in cui si dimostra che la comunità degli amici sono presenti sul territorio e sono molto attivi Quindi oltre sport anche un momento di socializzazione quindi intorno ad un momento ludico socializzare e stare insieme Una serata passata insieme in modo da poterci ulteriormente compenetrare fra di noi insomma E quindi dare ancora più forte questo legame che c'è tra le comunità insomma che sono presenti sul nostro territorio Ovviamente chiediamolo proprio a Arman ecco spiegaci un po' l'idea di organizzare questa festa che ricordiamo come possiamo leggere anche dalla locandina Ricorda il Divali che è una delle feste più importanti dell'India Ciao buonasera a tutti Per noi voglio dire soltanto questo che è un grande momento Probabilmente cercheremo di fare più feste che possiamo fare Però questo come per la prima volta è sempre un grande momento Assessore parliamo adesso del lato sportivo che i nostri cari amici hanno portato qui a Capaccio Questa bella realtà del cricket che sta crescendo anno dopo anno Ed è anche molto conosciuta in giro tra l'altro Infatti l'altro giorno settimana scorsa siamo stati invitati grazie proprio a loro a Paternopoli in provincia di Avellino Dove c'è stato un convegno proprio sull'integrazione e solidarietà Ed hanno proprio utilizzato la loro partecipazione come un momento dove si è realmente realizzato Quello che è l'aspetto principale di questa cosa che era quello di integrarsi Loro stanno continuando ad andare avanti, so che si continuano a vedere E vedi, vanno oltre anche quello che è lo sport Mi fa piacere che poi questo sia uno, come diceva giustamente Arman Sia uno dei pochi eventi che si siano organizzati e che sia poi fatto a Capaccio Pestum Ovviamente speriamo che questo sia pietra miliare di tanti altri eventi Arman approfittando dell'intervista vogliamo invitare soprattutto i giovani amici italiani Che ti ascolteranno sul web a unirsi a voi e che potrebbero provare il cricket L'idea pertanto soprattutto era questa per unirsi due nazioni diversi Che la gente dei due nazioni possano festeggiare insieme Quindi fino a ora festeggiava soltanto in India Adesso come per la prima volta che stiamo festeggiando qui E lo vengono gli italiani, cioè lo conoscono anche loro questi festeggiamenti Ad Maior ovviamente per i vostri progetti In bocca al lupo alla comunità qui di Capaccio Pestum del Cricket Ricordiamo i nostri riferimenti www.editorialatreata.it e atreatanotizie.it Continuate a cliccare, seguiteci sempre, ricordatevi che in mensile dell'Atreata siete voi gli altri sport E ricordatevi ai nostri amici del Cricket qui a Capaccio Buona serata a tutti e buon divertimento a loro Grazie, grazie a tutti Bocca a loro Grazie a tutti 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 Grazie a tutti